buonasera amiche carissime eccomi qua oggi non ho fatto video come sapete sono tornata a luna a casa ma stasera voglio farvi vedere qualcosa per la cena come vedete io ho fatto una teglia di verdure miste al forno gratinate zucchine patate cipolla milanzano tutto condito con erosti misti sì con il prodotto rossi misti ci sono tutte le spezie poi ho messo della curcuma e un po d'olio non sale perché nelle spezie già sono saporite e queste sono le mie verdure poi in forno ho fatto anche dei cosciotti di tacchino non so se si vedono non si vedono bene vi faccio vedere se parlato il telefono cosciotto e un altro sotto coscio infatti sempre con erosti misti peratrosti e poi ho messo rosmarino un po di aglio un mezzo spicchio e olio un pochino d'acqua e l'ho messo al forno non mi trovo il vino bianco si metterà lei hanno affiato un torino bianco ma ecco qua ora questo si vuole stasera questa cena ok ben amiche io questa sera questo è tutto vi ho fatto vedere e anche oggi un video e niente vi auguro a tutti una buona serata queste sono buonissime le assaggiate sono ottime scusate poi la curcuma da quel gusto quel sapore in più a chi piace a me piace poi la curcuma fa molto bene e abbassa la pressione io la metto anche nei sughi a volte quando faccio i video mi rimentico non li metto mai ma quando non facevo i video la metto sempre la curcuma nei sughi negli arrosti è buonissima bene per stasera è tutto e un abbraccio ciao amiche amici ciao ciao buona serata